Si conferma campione europeo per il 2017 Mirko Scarantino per il secondo anno consecutivo. Gli europei che si sono svolti a Spalato in Croazia hanno quindi deciso l'oro per il pesista nisseno nella categoria 56 kg con 266 kg sollevati. Al termine della gara di strappo Scarantino è primo dopo tre prove positive a 114, 117 e 120 kg. Secondo il moldavo Yuri Dudoglo, terzo il rumeno Ilieo Costantin Ceotoyu. Argento invece per il pesista delle fiamme gialle nello slancio. L'azzurro infatti raggiunge in seconda prova i 146 kg sollevati dal moldavo ma avendoli sollevati dopo il rumeno il risultato non basta. Fuori gara invece Josiu Brachis Garcia il temuto avversario spagnolo. Un'altra vittoria quindi per l'atleta nisseno soddisfatto ma anche emozionato durante la premiazione. Per quanto riguarda le donne azzurre, quinta posizione per Alessandra Pagliaro impegnata nella gara di categoria 48 kg.